oh giovani amici di facebook oggi vi consiglio un oggetto che è un po passato in disuso negli ultimi anni soprattutto per colpa degli smartphone e cioè la sveglia da tenere sul comodino più che altro uno dei modelli più venduti attualmente e più famosi è questo prog della oregon scientific che unisce due funzionalità molto comode una è la proiezione dell'ora sul soffitto che è comodissima sia continua sia su richiesta quindi il poter vedere diciamo che ore sono anche in piena notte è veramente molto figo l'altra cosa che ha questa sveglia e che hanno gli smartphone e solitamente non hanno le sveglie è appunto la possibilità di impostare svegli infrasettimanali cioè da lunedì al venerdì proprio come come fate appunto sul vostro smartphone per fondamentalmente andare a lavorare o svegliarvi per altri motivi particolari solamente durante la settimana e non durante l'weekend quindi senza dovervi ricordare chiaramente di togliere la sveglia il sabato e la domenica e andiamo a vedere cosa è incluso nella scatola allora non c'è niente da rompere purtroppo ma solo sfilato questo direi qua dentro trovate l'alimentatore sulla destra e le batterie le batterie servono nel caso se ne vada la luce fondamentalmente per cui la sveglia continua a funzionare grazie a delle batterie interne due mini stilo che sono fornite eccole qua la sveglia è disponibile in bianco e nero io ho preso il modello nero che mi piaceva di più qui vi fa vedere prima che la tolga cosa è rappresentato nella sveglia non sto ad accenderla per cui ve lo mostro grazie a questa plastica qui c'è l'ora bella grande c'è l'indicatore di ricezione del segnale radio per l'impostazione della sveglia e del calendario quindi questa è una sveglia in cui non dovrete impostare voi l'ora e la data ma verrà sempre aggiornata in tempo reale via radio grazie a questi servizi che ora sono molto usati e quindi questo la supporta è indicato il giorno della settimana informazione molto utile e anche i gradi interni della stanza in cui la metterete sul retro non c'è praticamente niente se non questo pannello che immagino serva ad ospitare le batterie interne vediamo subito sicuramente sì infatti non sto a metterle ora ci sono anche tre tasti che uno è un tasto reset l'altro è un tasto projection essere per invertire il verso della proiezione sul soffitto in base a come l'ha inclinate avrà senso girarla di 180 gradi c'è poi un tasto qui principale snooze e light per intenderci la proiezione può essere sempre attiva oppure può essere attivata dal tasto snooze per 5 secondi o 5 minuti c'è un più o meno di regolazione c'è un tasto orologio e un tasto sveglia vi do anche qualche informazione mentre faccio girare un po di immagini fighette della sveglia quindi supporta chiaramente la propria fine dell'orario che può essere anche girato dicendo 80 gradi con come vi spiegavo prima l'orologio il calendario sono radiocontrollati quindi non dovrete impostarveli da soli o ricordarvi insomma il 29 di febbraio altre date strane è indicato il giorno della settimana dato molto comodo quando vi svegliate la mattina volete sapere se è un martedì se è un lunedì o quello che è ha un doppio allarme sveglia ne ha uno giornaliero daily fondamentalmente appunto una sveglia che suona tutti i giorni e altra cosa super comoda è possibile impostare una sveglia infrasettimanale quindi che va solamente dal lunedì a venerdì ed è la classica sveglia che si usa per andare a lavorare o per utilizzi simili è indicata anche la temperatura interna sullo schermo della stanza in cui piazzerete questa sveglia la protezione come vi dicevo può essere o continua quindi sempre accesa oppure attivata dal tasto snooze per 5 secondi o 5 minuti la retroilluminazione è bianca il prezzo di listino è di 25 euro costa veramente poco se vi è piaciuta questa sveglia particolare di origo scientifico un grande classico e se vi piacciono i miei video unboxing fate like fate share e ci vediamo al prossimo video di incauto unboxing ciao ragazzi